In questo breve video introduciamo uno strumento matematico che trova applicazione in moltissimi settori. Le reti, in inglese networks, termine ormai comune anche nel linguaggio corrente. Io sono Carlo Piccardi, docente presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e mi occupo di reti e sistemi complessi, in particolare di metodi e applicazioni in vari settori, tra cui social network. Ma che cos'è una rete? In matematica una rete è rappresentata da un grafo, composto da un certo numero di nodi e caratterizzato dalla presenza di collegamenti tra questi nodi, detti link. Ci sono diversi tipi di rete. In primo luogo possiamo distinguere reti non dirette e dirette. In una rete non diretta l'esistenza di un link tra i nodi A e B implica l'esistenza di un link anche tra B e A. È quello che succede in Facebook, quando A e B stringono tra loro amicizia. In una rete diretta questo non è vero. Se c'è un link tra A e B, rappresentato da una linea con una freccia che punta da A verso B, non è detto che ci sia il link nella direzione opposta. Ad esempio, in Instagram posso diventare follower di uno sportivo famoso, ma difficilmente lui diventerà mio follower. Possiamo poi avere reti pesate e non pesate. In una rete non pesata tutti i link hanno la stessa importanza. Al contrario, in una rete pesata abbiamo link più o meno importanti. Ad un link più importante viene associato un peso maggiore. Ad esempio, in una rete di utenti WhatsApp, il peso può rappresentare il numero di messaggi scambiati tra A e B in un certo intervallo di tempo. Abbiamo introdotto la definizione di rete, ma a cosa serve una rete? Per capirlo, cerchiamo prima di comprendere che cosa significa costruire un modello matematico di un fenomeno reale. Supponiamo di essere interessati a studiare un certo fenomeno e in particolare un problema che si presenta in relazione a questo fenomeno. La modellizzazione matematica consiste nel fornire una descrizione con strumenti tipici della matematica, che possono essere di vario tipo, come ad esempio delle equazioni, oppure proprio una rete. In seguito alla traduzione del fenomeno reale in linguaggio matematico, il problema viene risolto in un contesto completamente astratto. Infine, i risultati ottenuti sono utilizzati per comprendere il fenomeno da cui si era partiti. Il concetto di rete in matematica ci aiuta quindi a modellizzare un fenomeno reale. Ci sono moltissimi fenomeni e situazioni della realtà che hanno la struttura di una rete. Pensiamo ad esempio alle reti che descrivono i rapporti sociali. Esempi ben noti di reti sociali virtuali sono i moderni social network, che si appoggiano su internet come Facebook, Twitter, Instagram e molti altri. Ma i rapporti sociali possono essere stabiliti ovviamente anche di persona. In questo esempio potete vedere la rete che descrive le amicizie tra gli allievi in una scuola. La rete in questo caso è diretta, perché è stata costruita chiedendo a ciascun allievo quali fossero i suoi amici. Può quindi capitare che un allievo dichiari di essere amico di un altro, ma non viceversa. I nodi della rete in questo caso sono colorati a seconda del corso frequentato dagli studenti ed emerge una netta separazione sulla base di questo attributo. Vediamo quindi che la rappresentazione matematica in termini di rete ci permette in questo caso di trarre delle conclusioni sulle dinamiche sociali di un gruppo di individui. Nella vita quotidiana ci capita di avere spesso a che fare anche con reti di informazioni. Pensiamo ad esempio alle pagine www, a Wikipedia. Abbiamo poi le reti di trasporto, come la rete della metropolitana. Qui invece abbiamo la rete del traffico aereo mondiale, nella quale, grazie alla diversa dimensione dei nodi, sono stati evidenziati gli aeroporti più importanti. L'analisi attraverso le reti ci permette di fotografare la situazione e ci può anche suggerire eventuali modifiche da apportare all'organizzazione della rete stessa. I fenomeni che abbiamo visto appartengono a contesti molto diversi tra loro. Il vantaggio della modellizzazione matematica tramite le reti risiede proprio nella possibilità di descrivere fenomeni così lontani con strumenti comuni.